Oggi, fratelli e sorelle nel Signore, voglio darvi una parola sulle guarigioni. Voi sapete che noi parliamo tanto, abbiamo parlato tanto sulla santificazione, abbiamo parlato tanto su leggere la parola, attenersi, osservare i comandamenti che sono scritti in esse, in credere, in tutto quello che c'è scritto nella parola. E tra le cose che sono scritte nella parola ci sono anche le guarigioni divine, cioè quando una persona è malata, ha un'infermità, una malattia, un impedimento, o anche per quanto riguarda è morta, perché anche questo il Dio può fare, è morta, il Dio lo può risuscitare dai morti. E questo è scritto nella parola. E queste cose noi dobbiamo credere. Oggi prenderemo, ad esempio, faremo il nostro discorso, affronteremo il nostro discorso per quanto riguarda le guarigioni divine, le guarigioni potenti che Dio compie sul corpo per guarire le persone, per guarire gli uomini. Siano essi credenti, perché Dio ha compiuto guarigioni sia sui credenti e sia sui non credenti. E Dio, alla fine, guarisce chi vuole lui e come vuole lui. Ma Egli è potente da guarire. Questa è la cosa più importante, che Dio non ha limiti e Dio può guarire. Può compiere questa opera. Ora, leggiamo, siccome abbiamo parlato della parola, abbiamo parlato della parola a cui bisogna attenersi, Ora, leggiamo, al capitolo 2 di Ebrei, leggiamo alcune cose di cui noi credenti abbiamo bisogno. Perché noi quello che possiamo fare è impegnarci a parlare, a predicare, ad annunziare l'Evangelo, a esortare i fratelli ad avere fede in Dio e anche a santificarsi. Questo lo possiamo fare a parole. Ma noi, la Chiesa, e noi credenti, anche noi, che facciamo parte della Chiesa universale, abbiamo bisogno che Dio confermi le nostre parole. E queste parole vengono confermate con grandi segni e prodigi da parte di Dio che compie. E in Ebrei è scritto, Ebrei 2, dal versetto 1, 2-1, Perciò bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse, perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita. Vedete quindi cosa avveniva? Avvenne che Gesù mandò i Suoi discepoli ad annunziare la salvezza in Cristo Gesù. E questa salvezza, diciamo, alla predicazione dei discepoli che Gesù ha mandato, Dio stesso ha aggiunto, ha confermato quelle parole annunziate, le ha confermate attraverso dei segni, dei prodigi, dei miracoli, con la distribuzione, col battesimo con lo Spirito Santo, con la distribuzione dei doni spirituali. Questa è la conferma dell'iddio vivente ve. Ora, noi in quale stato siamo? Noi praticamente siamo nello stato che annunziamo la verità che è nella parola e crediamo anche in queste cose, noi le annunziamo, annunziamo che Dio è potente da compiere segni, prodigi, miracoli, battezzare con lo Spirito Santo, far parlare in altre lingue, profezia, sogni, visioni, anche guarigioni, guarigioni divine, senza l'intervento umano, ma guarigioni divine, completamente guariti per l'intervento unico e soltanto di Dio. Questo è quello che Dio compie in aggiunta delle parole vere dette, prese dalle sacche scritture. Noi siamo tenuti, abbiamo l'obbligo di annunziare la verità della parola, di credere in tutto quello che è scritto nella parola e poi aspettare che Dio aggiunga la sua testimonianza. Attenzione, la testimonianza Dio la aggiunge quando e come vuole Lui. Non è che la aggiunge quando ci pare a noi, quando vogliamo noi. Quindi Dio può anche non compiere segni, prodigi e miracoli, ma la verità della parola rimane. Attenzione, Giovanni Battista annunziava la verità, ma per le sue mani non fu fatto nessun miracolo, eppure annunziava la verità. Fu mandato da Dio ad annunziare la verità, ad annunziare l'Evangelo, di credere in Gesù Cristo che doveva venire. Ed era verità. Ecco, anche se Dio non ha confermato con segni, prodigi e miracoli compiuti dalle mani di Giovanni Battista, pure Giovanni Battista era ripieno di Spirito Santo e annunziava la verità. Quindi qui bisogna discernere bene, cioè non è che se mancano i segni, i prodigi e i miracoli, quello che è stato detto con la parola non è stato confermato da Dio. perché Dio può confermare anche in altri modi. Può salvare, può toccare il cuore di quel fratello, lo può risvegliare, lo può spingere a santificarsi, a pregare di più, a leggere di più la parola. Quindi vedete, Dio ha toccato i cuori perché nei cuori ci arriva solo il Signore. Noi arriviamo fino alle orecchie. Noi arriviamo fino alle orecchie parlando con la nostra bocca delle cose del Signore. ma nel cuore ed è lì che avviene il cambiamento del fratello, è lì che viene convinto a compiere determinate cose. Quindi comunque sia, anche quello è una conferma di Dio che ha operato nei cuori. Però noi siamo chiamati a credere non solo a questo perché è vero, ma a credere anche che Dio compia segni, prodigi e miracoli potenti. Quindi oggi parliamo in modo particolare delle guarigioni perché noi dobbiamo credere perché quando ci mettiamo inginocchiati a pregare affinché Dio guarisca o noi o qualcuno che è vicino a noi o quelli che ci mette in cuore per cui pregare, quando ci mettiamo in ginocchio prima di tutto dobbiamo credere che Dio è potente da compierle, che sono cose scritte nella parola, che ancora oggi avvengono. perché se non ci crediamo noi, quando ci inginocchiamo a pregare e a chi dobbiamo convincere il Signore ad operare se noi siamo i primi a non credere a quello che è scritto nella parola. E quindi dobbiamo partire sempre da una situazione di fede. E oltre a segni di conferma leggiamo anche in Marco al capitolo 16 in Marco al capitolo 16 ci sono dei segni che accompagnano attenzione non è che tutti i segni accompagnano tutti i credenti questo sia chi ha questi segni comunque accompagnano coloro che hanno creduto coloro che hanno creduto al capitolo 16 del Vangelo di Marco dal versetto 17 Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno vedete anche questo è una cosa che Dio opera attraverso i suoi figlioli questi sono attenzione badate bene badate bene che sono caratteristiche queste che riguardano solamente chi ha creduto perché sono segni che accompagnano chi? tutti gli uomini? no sono segni che accompagnano coloro che hanno creduto e quindi che avendo creduto hanno in loro dentro di loro lo spirito santo capite? hanno lo spirito santo e quindi perché? perché i demoni vengono cacciati ad opera ad esempio dello spirito santo come fai a cacciare i demoni se non hai lo spirito di Dio dentro di te? come fai a imporre le mani a operare una guarigione divina nei confronti di un infermo se tu non hai lo spirito santo quindi vedete si parte sempre da una situazione che ha determinato la scrittura che è quella che sono segni questi che accompagnano coloro che hanno creduto e quindi quando sentiamo che un cattolico idolatra dice ha compiuto un miracolo quello non può essere un vero miracolo capite? non può essere un vero miracolo di guarigione o di altre cose perché i segni accompagnano coloro che hanno creduto non gli idolatri non accompagnano i segni di Dio gli idolatri e attenzione accompagnano qui dice che accompagnano coloro che hanno creduto quindi stiamo attenti a non confondere le guarigioni divine compiute per le mani di un credente da quelle che invece dicono dicono che hanno compiuto attraverso l'acqua santa o i loro rituali vari che sono i cattolici oppure anche altri gruppi religiosi ce ne possono essere anche altri quindi badate bene a non farvi ingannare io purtroppo ho conosciuto dei fratelli insensati che accettavano dicevano sì crediamo che Dio guarisca ma può guarire anche per le mani dei cattolici e allora così non contraddivano i cattolici che dicevano queste cose e queste non va bene queste cose qui non vanno bene perché non sono conformi alle sacre scritture per quanto riguarda le guarigioni è importante considerare adesso andiamo a leggere quello che è scritto Pietro è importante questa considerazione perché perché noi ci rivolgiamo ci rivolgiamo per quanto riguarda il peccato a cosa guardiamo noi a Gesù Cristo al suo sangue che ha sparso al suo sacrificio allora guardando al suo sacrificio e al sangue che Gesù Cristo ha sparso ecco che chiediamo con piena fiducia chiediamo a Dio con piena fiducia che ci perdoni e ci purifichi da ogni peccato a noi e anche al fratello magari che sappiamo l'abbiamo visto peccare perché è scritto in Giovanni che bisogna pregare anche per il fratello che abbiamo visto peccare quindi guardiamo a Gesù per quanto riguarda il peccato ma sempre a Gesù bisogna guardare è scritto che bisogna guardare sempre a Gesù anche per quanto riguarda anche per quanto riguarda le guarigioni ed ecco cosa dice Pietro cosa scrive Pietro Pietro capitolo 2 parlando di Gesù dal versetto 24 dice egli riferendosi a Gesù egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati poiché eravate erranti come pecore ma ora siete tornati al pastore e vescove delle anime vostre quindi vedete scritto che una parte la morte e il sangue di Gesù sono da considerare strettamente legati al perdono e alla purificazione del peccato ma qui dice anche che mediante le sue lividure sì perché Gesù non ha ricevuto soltanto la morte non è stato solo trafitto non è stato solo diciamo il suo sangue non è stato sparso non è stato solo crocifisso per i nostri peccati ma ha ricevuto anche delle lividure ha ricevuto delle battiture dei pugni con le canne l'hanno colpito in testa gli hanno dato dei pugni così è scritto ha ricevuto delle lividure e per queste lividure per questi altri colpi per queste altre cose che Gesù per queste cose che Gesù ha ricevuto sul suo corpo noi siamo stati sanati capite cioè riceviamo guarigione per queste lividure quindi quando pensiamo a Gesù ricordatevi che su di lui ha preso anche anche le malattie quindi possiamo essere sanati per le lividure che Gesù Cristo ha subito nel suo corpo quindi nella stessa maniera come crediamo che Gesù ha portato sul suo corpo e ha sparso il suo sangue per i nostri peccati e noi questo lo crediamo e abbiamo diverse volte ricevuto la purificazione dei nostri peccati come crediamo in queste cose abbiamo ricevuto la purificazione dei peccati così pure dobbiamo credere pienamente pienamente al fatto che sempre per il corpo di Gesù per quello che lui ha subito per le lividure abbiamo avuto anche la guarigione quindi si ottiene anche la guarigione se tu ottieni il perdono dei peccati hai ottenuto e ottieni il perdono dei peccati nella stessa maniera puoi ottenere la guarigione divina quindi è tutto quello che noi crediamo sulla guarigione divina è basato e sostenuto dall'opera che Cristo Gesù ha compiuto da quello che ci insegnano le sacre scritture è sempre poggiato su Gesù e sulla parola non è qualcosa che ci stiamo inventando noi uomini ma non è assolutamente passato perché se non è passato il fatto che Gesù è morto per i nostri peccati per quale motivo oggigiorno deve essere passato il fatto che non si ottengono non si debbano ottenere guarigioni divine nella stessa maniera come invece si ottiene la purificazione dei peccati quindi è una mancanza di fede purtroppo ci sono ambienti evangelici che dicono di credere nella parola di Dio ma alcune parti non le credono proprio questi sono gli antipentecostali chiamati anche i cessazionisti che non credono che Dio ancora oggi possa compiere segni prodigi miracoli guarigioni non ci credono e sbagliano erano grandemente perché nello stesso Gesù che noi crediamo per il perdono dei nostri peccati ci sono anche le liridure che ci permettono di ottenere le guarigioni divine capite quindi non ha senso credere a una cosa e rifiutare l'altra non è non è coerente non è neanche coerente oltre che manifestare una mancanza di fede non è neanche un ragionamento un ragionamento fatto con 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 coerenza ora determinato dove si poggia la guarigione noi leggiamo in Giacomo cosa dice a riguardo degli infermi a riguardo degli infermi Giacomo a capitolo 5 leggiamo dal versetto 13 fino al versetto 16 o anche oltre leggiamo cosa dice Giacomo per quanto riguarda la guarigione gli infermi e cosa devono fare gli infermi è come si ottiene la guarigione uno dei modi di come si può ottenere la guarigione perché abbiamo visto che si può imporre si possono imporre le mani per ottenere la guarigione come abbiamo letto in Marco imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno poi qui sempre legato alle guarigioni c'è scritto anche questo 5.13 di Giacomo c'è fra voi qualcuno che soffre preghi c'è qualcuno d'animo lietto salmeggi c'è qualcuno fra voi infermo chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui un gendolo d'olio nel nome del Signore e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se egli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia vedete è scritto che se c'è qualcuno che è infermo che sta male che soffre qualsiasi tipo di sofferenza anche non per forza deve essere una malattia bisogna pregare che il Signore ti esaudisca e ti liberi da quella sofferenza se uno è infermo deve ad esempio qui c'è scritto una cosa che può fare che Giacomo dice che deve chiamare gli anziani della chiesa gli anziani pregheranno su di lui e lo ungeranno d'olio e il Signore lo ristabilirà vedete c'è scritto anche questo una preghiera con unzione dell'olio deve essere il malatto che chiama gli anziani che preghino su di lui ungendolo d'olio ecco allora il Signore qui è scritto vedete la parola di Dio opera ci fa sapere anche questo modo con cui si può ottenere la guarigione la preghiera degli anziani non uno soltanto ma degli anziani che pregano su un determinato malato chiamati gli anziani dal malato non è che gli anziani partono autonomamente in giro e vanno per pregare per gli ammalati in questo caso è il malato che manifesta la sua volontà chiamando gli anziani infatti dice c'è qualcuno fra voi infermo chiami vedete quello che deve fare l'infermo chiamare gli anziani della chiesa e questi pregando su di lui lo ungeranno d'olio e questi lo ungeranno d'olio nel nome del Signore Gesù e la preghiera della fede salverà il malato certo la preghiera deve essere fatta con fede uno deve credere che il Signore guarisca deve credere a quello che è scritto nella parola se no quando preghi stai chiedendo qualcosa che tu non credi e quindi non otterrai sempre Giacomo dice non pensi già quel tale di ricevere qualcosa se prega senza avere fede non riceverai nulla se tu non chiedi con fede quindi la fede qualsiasi cosa si chieda al Signore deve essere sempre presente è qualcosa che non si può fare a meno e questa preghiera cosa farà? farà che il Signore ristabilirà il malato lo guarirà lo guarirà e si ha commesso dei peccati cosa significa questo? che strettamente collegati alle malattie può esserci qualche peccato che quella persona ha commesso attenzione voglio dire che non è che uno che è malato per forza di cose ha sempre commesso dei peccati non dice così la parola però in questo caso Giacomo collega anche questo fatto se viene guarito se è semplicemente una malattia viene guarito ma se è una malattia dovuta a un determinato peccato gli viene rimesso anche il peccato perché non ci può essere una guarigione se non viene prima rimesso il peccato ma soprattutto ci deve essere un esame da parte del credente che esamina se stesso e riconosce in sé di aver commesso dei peccati che deve abbandonare perché se gli viene gli viene addosso una malattia un qualcosa un'infermità deve deve riconoscere che Dio è giusto e che magari lo ha punito per quel peccato e quindi lo deve abbandonare quindi non ci può essere una guarigione se non c'è un'intenzione ferma di abbandonare il peccato anche perché se uno si vuole tenere il peccato non può pretendere di ottenere da Dio la guarigione capite è tutto vedete Giacomo esamina sotto questi punti di vista tutte le situazioni che possono essere collegate all'infermità e alla malattia poi dice anche al versetto 16 dice confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti pregate pregate gli uni per gli altri questa questo questa preghiera come deve essere fatta deve essere fatta sinceramente con tutto il cuore bisogna essere uniti ai fratelli per poter fare una preghiera efficace come dice poi molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia dentro l'efficacia rientra quella di farla con tutto il cuore avendo fede con tutto il cuore sinceramente amando il fratello la sorella o i figli di questi fratelli amandoli sentendo proprio un sentimento dentro il proprio cuore e innalzando a Dio una preghiera sincera efficace quindi piena di fede e il Signore ascolterà questo tipo di preghiera vedete quindi questa è una preghiera di intercessione qui non c'è limite cioè non è mentre prima abbiamo visto che Giacomo ha fatto riferimento a una preghiera degli anziani con l'unzione dell'olio qui in questo secondo caso sulla preghiera per essere guariti non fa riferimento solo agli anziani qui riguarda tutti e questo è importante perché se noi non leggiamo queste parole non le consideriamo qualcuno può arrivare alla conclusione e dire vabbè ma devono pregare solo gli anziani solo i pastori solo i servi di Dio possono pregare per le guarigioni no perché innanzitutto è scritto che questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto non quelli che avranno ricevuto il ministerio o il servizio ma coloro che avranno creduto quindi tutti quelli che avranno creduto possono pregare per poter guarire qualcuno affinché Dio guarisca qualcuno capite e qui Giacomo dice di pregare gli uni per gli altri onde siate guariti sì perché oggi preghiamo stiamo pregando per determinati fratelli e sorelle domani potrebbe toccare a noi e loro essendo stati guariti pregheranno per noi onde siamo guariti quindi è un giro questo è una ruota che gira oggi noi ci troviamo a dover pregare per la guarigione degli altri e quindi facciamolo intensamente veramente con tutto il cuore come se fossimo malati noi capite o un figlio strettamente legato a noi un parente strettamente legato a noi dobbiamo pregare veramente mettendoci tutto il cuore come se dovessimo come se siamo davanti a Dio e gli prendiamo la mano e lo costringiamo a operare quella guarigione perché nella stessa maniera poi Dio susciterà dei fratelli che pregheranno in quella maniera per noi quando toccherà a noi perché prima o poi i fratelli sappiate ci toccherà a tutti tutti passeremo determinate prove determinate cose le malattie non è che sono tutte per il peccato possono essere anche delle prove quindi le prove naturalmente il peccatore si aspetterà le malattie se le deve aspettare a causa del suo peccato gli altri invece non è che sono le vabbè io non vivo nel peccato può essere io posso crederlo ma non sei apposto lo stesso perché Dio può mandarti lo stesso delle malattie per metterti alla prova quindi la questione malattie nessuno è immune nessuno è protetto capite perché comunque sia Dio può operare per ottenere un determinato risultato mandando può operare mandando mandandoci una malattia le malattie non sono tutte collegate al peccato sono anche delle prove sono delle prove e quindi quindi il Signore il Signore opera in questa maniera e noi come dobbiamo andare al Signore pregando gli uni per gli altri per ottenere la guarigione dobbiamo andare con tutto il cuore dobbiamo andare con tutto noi stessi con tutte le nostre forze spirituali che noi abbiamo ma per fare questo hai anche bisogno di conoscere il fratello hai anche bisogno di amare il fratello di sentire di provare un sentimento verso il fratello perché non è la stessa cosa pregare per uno sconosciuto o pregare invece per un fratello che quando sai che stai male ti metti anche a piangere e ti commuovi e ci metti tutto il cuore è una grande distinzione differenza c'è una grande differenza ecco quindi che una preghiera fatta con efficacia per quanto riguarda le guarigioni è strettamente legata è strettamente legata al rapporto di unione di comunione fraterna che c'è tra i fratelli e quindi è importantissimo anche che ci sia comunione fraterna una profonda pari consentimento unità gli stessi intenti gli stessi desideri lo stesso amore verso il bene comune della chiesa dei santi e questo è importante sono cose importanti l'unità della chiesa è una di quelle cose che dopo la conversione l'unità la crescita e l'unità della chiesa sono le cose più importanti non ci può essere crescita non puoi sentirti di far parte della chiesa se tu non sei unito alla chiesa capite certo noi viviamo una situazione adesso un po' particolare difficile siamo tutti distanti non tutti hanno la possibilità di frequentare con costanza un gruppo di credenti di vedersi di edificarsi a vicenda di pregare guardarsi negli occhi stringersi la mano non tutti però facciamo comunque parte della chiesa e comunque siamo in comunicazione tra di noi quindi dobbiamo per quanto è possibile conoscerci il più possibile e pregare gli uni per gli altri con tutto il cuore amandoci amandoci sentendo proprio il dolore la sofferenza dentro il nostro cuore questo è il modo la preghiera efficace insieme alla fede alla fede e questo è il modo con cui si deve fare una preghiera efficace una preghiera che deve essere fatta in maniera che deve raggiungere un determinato obiettivo che è quello di ottenere la guarigione poi sappiamo che Dio ci esaudisce quando e se è secondo la sua volontà questo lo sappiamo ma noi siccome non lo sappiamo per quanto riguarda le malattie dei fratelli e delle sorelle noi dobbiamo pregare come se la volontà di Dio fosse sempre quella di guarire poi se non guarisce perché può avvenire attenzione può avvenire perché è la volontà di Dio perché noi siamo esauditi nelle nostre preghiere se quello che chiediamo è secondo la volontà di Dio non si viene esauditi se non è se le cose chieste non sono secondo la volontà di Dio quindi questo perché è importante saperlo è importante saperlo per non scoraggiarci perché magari uno dice ho pregato Dio non ha guarito e quindi Dio oggi non guarisce più no questi ragionamenti non sono sensati non sono giusti perché bisogna avere bisogna credere in tutta la parola in tutta la parola è scritto che Dio esaudisce se le preghiere vengono fatte con fede e se sono secondo la sua volontà magari io pregherò con fede con efficacia ma non è volontà di Dio che quella persona guarisca vi faccio un esempio se Dio ha deciso di prendersi un fratello con una determinata malattia noi possiamo pregare anche con la fede più grande di questo mondo possiamo pregare con efficacia possiamo piangere digiunare sbatterci con la testa a terra giorni e giorni ma se Dio ha già deciso nei suoi progetti nei suoi disegni non ci esaudirà cioè gradirà la nostra preghiera il modo come la facciamo che ci mettiamo tutto il cuore tutte le nostre energie tutte le nostre forze però non verremo esauditi e questo non vuol dire che Dio non ci gradisce capite no questo per dirvi che non bisogna scoraggiarsi non bisogna scoraggiarsi perché talvolta il Signore il Signore non è che è al nostro servizio il Signore talvolta ci dice anche no ma noi comunque quello che dobbiamo fare noi quello che dobbiamo fare dobbiamo portarlo avanti e dobbiamo compierlo poi Dio farà la sua parte perché qui le volontà sono due c'è la nostra che vogliamo la guarigione e poi c'è quella di Dio che lui ha già deciso se guarire oppure no però noi se non la conosciamo questa volontà noi dobbiamo credere che il Signore voglia guarire questo deve essere il nostro stato d'animo il nostro cuore il nostro desiderio poi il Signore spetterà a lui compiere la sua opera come vuole e noi non ci dobbiamo scoraggiare non ci dobbiamo abbattere se il Signore dice anche no dice no può dire no il Signore attenzione ma questo non ci riguarda adesso adesso quello che voglio argomentare maggiormente e comunicarvi è il fatto di quello che dobbiamo fare noi credere e pregare per la guarigione questo è quello che il credente deve fare poi noi facciamo la nostra parte come la scrittura ci dice di farla e il Signore poi farà la sua come meglio ritiene e come meglio lui vuole operare come riterrà meglio opportuno secondo i suoi disegni secondo le sue le sue i suoi progetti che lui avrà fatto dall'inizio dei tempi quindi secondo quello che lui vorrà vorrà fare ora voglio leggervi anche un altro modo che Dio ha stabilito un altro modo con cui Dio ha stabilito di effondere le sue guarigioni divine agli uomini e leggiamo al capitolo 12 di prima Corinzi dove parla dei doni spirituali cosa sono i doni spirituali i doni spirituali sono una manifestazione diretta dello spirito santo una manifestazione dello spirito cioè lo spirito si manifesta si mostra c'è e nessuno può dire che non sia così capite tra questi tra questi doni che sono nove in totale tra questi doni c'è anche quello delle guarigioni divine c'è il dono delle guarigioni ci sono dei servitori di Dio a cui vengono dati i doni delle guarigioni quindi questi pregando e imponendo magari le mani sugli infermi questi guariscono perché Dio gli ha dati i doni oppure se non li guarisce il Dio spiegherà al suo servitore per quale motivo non viene guarita quella persona sempre rientra sempre nella comunione che un servitore di Dio ha con il Signore come anche aveva Paolo vi ricordate Paolo? Paolo aveva una scheggia nella carne un angelo di Satana che lo schiaffeggiava ha pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da lui ma il Signore gli disse no la mia grazia ti basta vedete ti ha detto no il Signore e Paolo pregò con fede non è che Paolo pregò senza avere fede e Dio gli disse no e quindi gli bastava la grazia che Dio gli aveva concesso questo perché aveva una utilità quelle cose quelle sofferenze date da Dio a Paolo avevano una utilità l'utilità di non inorgoglirsi a motivo delle rivelazioni potenti che Dio gli aveva dato perché se si sarebbe inorgoglito poi Dio lo avrebbe dovuto colpire umiliare abbassare capite e poi avrebbe avrebbe scandalizzato avrebbe scandalizzato quelli che ha evangelizzato quindi il Signore l'ha mantenuto umile gli ha dato delle rivelazioni potenti e gloriose ma nello stesso tempo lo ha mantenuto umile e gli ha detto no quando ha pregato nella stessa maniera come può dire no ancora oggi ai suoi servitori però vedete a Paolo gli ha risposto gli ha spiegato perché capite quindi non è che Paolo è rimasto senza sapere il perché perché anche Paolo aveva i doni di guarigioni perché è importante citare Paolo perché Paolo aveva i doni delle guarigioni quindi Dio gli parlava anche ora se un servitore di Dio ha ricevuto i doni di guarigione e questi ha diciamo come avere un canale aperto con il Signore per quanto riguarda la guarigione quindi quando prega su qualcuno questi deve guarire se non guarisce perché tutto dipende sempre dalla volontà di Dio anche se uno riceve i doni di guarigioni non è che si riceve la guarigione per volontà dell'uomo sempre per volontà di Dio perché chi ha il dono di guarigioni prega il Signore chiede al Signore che quella persona sia guarita e il Signore lo esaudisce lo lo ascolta e lo esaudisce se non lo esaudisce perché ha deciso sempre nella sua volontà di non esaudirlo allora magari il Signore può spiegarne le ragioni al suo servitore glielo spiegherà come è avvenuto che ha spiegato il no che aveva dato all'Apostolo Paolo quindi anche il dono delle guarigioni che è scritto tra i doni dal versetto 8 quindi 12 prima Corinzi 12 dal versetto 8 leggiamo i doni spirituali l'elenco dei doni spirituali infatti a uno è data mediante lo spirito parola di sapienza a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito a un altro fede mediante il medesimo spirito a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito a un altro potenza di operare miracoli a un altro profezia a un altro il discernimento degli spiriti a un altro diversità di lingue e ad un altro la interpretazione delle lingue ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole quindi i doni spirituali vengono distribuiti dallo spirito santo e una manifestazione dello spirito vengono distribuiti dallo spirito santo e si manifesta quindi lo spirito santo quando uno che ha ricevuto i doni di guarigioni diciamo prega per la guarigione di qualcuno lo spirito santo in qualche modo si manifesta e compie quella guarigione cioè non è l'uomo che ha delle facoltà per poter compiere la guarigione è sempre lo spirito santo che opera è sempre Dio che opera quindi bisogna essere credenti altrimenti se non si ha lo spirito santo come si fa come fa lo spirito santo poi a compiere quella guarigione anche se alla misericordia di Dio non possiamo mettere poi dei limiti perché anche se un incredulo pregasse pregasse per una guarigione sua o di un parente o di un familiare e il Signore lo vuole esaudire e Dio lo esaudisce lo stesso attenzione però nella situazione normale noi sappiamo che i credenti sono i credenti quelli che hanno maggiore possibilità e autorità per poter per poter diciamo guarire gli infermi attraverso la preghiera per mezzo dello spirito santo perché in loro hanno lo spirito santo hanno ricevuto lo spirito santo addirittura i donne spirituali che vengono dati dopo essere riempiti di spirito santo dopo aver ricevuto il battesimo con lo spirito santo lì in quel caso il credente è proprio ripieno di spirito santo è traboccante è traboccante e quindi c'è una misura di spirito ancora maggiore questa autorità vedete che viene data ai servitori il Dio dà ai servitori l'autorità di compiere queste guarigioni e questo lo vediamo anche quando Gesù lo leggiamo anche da quel passaggio biblico che andiamo adesso in Matteo nel Vangelo di Matteo al capitolo dove vengono mandati i dodici i dodici a compiere la loro missione al versetto 1 leggiamo Matteo 10 1 poi chiamati a sé i suoi dodici discepoli diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità quindi quei dodici furono mandati ad evangelizzare fu dato da Gesù vedete quindi devi ricevere qualche cosa se vuoi svolgere diciamo per compiere determinate guarigioni magari quelle istantanee quelle che tu imponi le mani e quello viene guarito è comunque una potestà è un potere una potenza che viene data da Dio a quell'uomo per poter compiere determinati segni determinati prodigi per compiere guarigioni però non c'è solo questo che uno può pensare vabbè ma allora se non abbiamo ricevuto la potestà non possiamo pregare no questo riguarda particolari servizi che vengono dati da Dio particolari autorità data a coloro che compiono un determinato servizio per il Signore per chi invece non ha comunque ricevuto questo particolare tipo di autorità distribuita da Dio rimangono le parole che abbiamo letto prima in Giacomo che l'ordine di pregare gli uni gli altri onde siate guariti capite quindi preghi per le guarigioni perché hai ricevuto un particolare dono di Dio una particolare autorità e potestà per compiere diciamo le guarigioni o hai ricevuto questa autorità e i doni o altrimenti lo devi fare come ha detto Giacomo pregate gli uni gli altri onde siate guariti e lì non c'è un'autorità specifica c'è un ordine generico quindi si può comunque sempre pregare in qualsiasi modo per la guarigione la propria guarigione o per la guarigione di un fratello o di una persona che noi vogliamo che guarisca quindi vedete bisogna sempre ricordare che ci sono queste distinzioni perché magari per la nostra preghiera generica fatta tutti insieme il Signore può esaurire la preghiera può guarire però ci sono quelli che ricevono un'autorità una potestà particolare e loro da soli andanno a pregare per quella persona malata questa guarisce questa viene viene guarita e infatti adesso andremo a leggere degli esempi degli esempi che ci faranno vedere come sono avvenute le guarigioni e quindi come noi dobbiamo imitare qualora il modo con cui dobbiamo operare qualora ci troviamo in situazioni simili in situazioni che si assomigliano a quelle che noi leggiamo nelle Sacre Scritture ma date bene che di guarigioni e di liberazioni anche dai demoni ce ne sono tante nelle Sacre Scritture e si possono leggere tutte perché leggendo queste cose queste guarigioni che Dio ha compiuto la nostra fede a riguardo del desiderare la guarigione si fortifica quindi se noi vogliamo pregare per le guarigioni sarebbe cosa buona prima di mettersi a pregare leggere qualche guarigione che è stata compiuta che è scritta nella parola perché leggendo perché siccome la fede viene dall'udire l'udire sia per mezzo della parola di Cristo noi dobbiamo operare per far crescere la nostra fede per poter poi andare al trono della grazia e chiedere chiedere che Dio ci esaudisca e che guarisca quella quella persona o noi stessi perché possiamo pregare anche per noi stessi se siamo malati noi dobbiamo fortificarci noi per primi nella fede quindi leggeremo tutti quei passi che parlano di guarigione che Dio ha guarito o attraverso Gesù o attraverso i suoi discepoli affinché la nostra fede sia fortificata quindi leggendo la parola ci fortifichiamo nella fede perché abbiamo anche già detto che la fede è uno di quegli elementi importanti fondamentali che non possono mancare quando si prega per la guarigione per ricevere una guarigione divina non può mancare la fede quindi dobbiamo curarci dobbiamo studiarci di fortificarci nella fede e questo lo possiamo fare studiando determinati passaggi biblici nella parola quindi non dobbiamo dobbiamo sapere queste cose per poi metterle in pratica perché vedete le guarigioni si ottengono perché si è ricevuti i doni o perché ci si organizza pregando insistendo davanti al Signore che ci esaudisca in queste cose noi chiederemo con insistenza con perseveranza di ottenere la guarigione per noi o per gli altri e il Signore dovrà in qualche modo risponderci operare però dobbiamo farlo con fede quindi ci dobbiamo studiare di fare tutte le cose secondo le scritture e nella maniera nella maniera giusta ora leggiamo dei passaggi biblici dove dove ci sono degli esempi di guarigione andiamo in atti degli apostoli leggiamo prima quelli ne leggeremo un paio dal libro degli atti degli apostoli al capitolo 3 di atti degli apostoli dal versetto 1 leggiamo come è stata compiuta questa potente guarigione di un uomo che era zoppo e che si faceva trovare sempre in una vicina al in una porta del tempio e che tutti conoscevano quindi quando Dio lo guarì fu una grande testimonianza vedete anche lo scopo dei segni prodigi col quale Dio opera opera sempre per dare gloria al suo nome non opera soltanto per portare un beneficio alla singola persona ma opera alcune volte molte volte sempre per dare gloria al suo nome quindi stiamo attenti seppur dovessimo ricevere il dono delle guarigioni stiamo attenti che quando si compiono poi le guarigioni stiamo attenti a non inorgoglierci a non innalzarci perché tutta la gloria deve sempre andare al Signore perché chi si innalza sarà abbassato quindi bisogna fare attenzione anche a questo quindi è buono desiderare di ricevere anche dei doni di guarigioni però chiedete sempre un cuore umile fratelli qualsiasi cosa voi chiedete al Signore aggiungeteci sempre di darvi sempre un cuore puro umile e savio ma umile una parte doppia di umiltà perché qualsiasi dono Dio ci dà noi dobbiamo rimanere umili capite perché se ci innalziamo dopo il Signore ci deve abbassare e questo non è una cosa buona capitolo 3 di Atti dal versetto 1 or Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona le 3 del pomeriggio le 15 e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio costui veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio domandò loro l'elemosina e Pietro con Giovanni fissando gli occhi su lui disse guarda noi ed egli li guardava intentamente aspettando di ricevere qualcosa da loro ma Pietro disse dell'argento e dell'oro io non ne ho ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina e presolo per la mandestra lo sollevò e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono e d'un salto si rizzò in pie e cominciò a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando e saltando e lodando il Dio e tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quello che gli era avvenuto vedete una grande meraviglia cadde su coloro che lo conoscevano quindi Dio compì questo grande segno grande prodigio per confermare come abbiamo letto in ebrei per confermare la parola che i discepoli gli apostoli stavano annunziando e Dio aggiungeva la sua testimonianza con grandi segni prodigi miracoli e guarigioni e questa fu una di quella ma io vi ho letto questo passaggio per farvi notare che la guarigione è avvenuta in questa maniera avevano sì il dono delle guarigioni Pietro e Giovanni essendo apostoli gliel'è stata data l'autorità va bene quindi sicuramente Dio gli aveva comunque fatto sapere che dovevano compiere quella guarigione e lo fecere con piena fiducia ma guardate nel nome di chi lo fece qui dice Pietro disse nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina quindi la guarigione quando viene fatta la guarigione deve essere fatta nel nome di Gesù Cristo il Nazareno nel nome di Gesù di Nazareth vedete nel nome di Gesù Cristo e questo è importante perché non è che può venire uno e dice ah io faccio miracoli nel nome di un altro nome nel suo stesso nome no le guarigioni avvengono per il nome per mezzo del nome nel solo nome di Gesù Cristo come ha detto Pietro per le sue lividure siamo stati sanati quindi è nel nome di Gesù Cristo per quelle lividure che noi otteniamo la guarigione è per il nome di Gesù Cristo non per una nostra capacità o per altri motivi no è solo nel nome di Gesù quindi vedete che nel nome di Gesù c'è la salvezza nel nome di Gesù c'è la guarigione nel nome di Gesù c'è tutto quello che noi abbiamo è tutto legato al nome di Gesù quindi dobbiamo conoscere bene chi è Gesù Gesù Cristo di Nazareth perché nel suo nome che si ottengono tutte le cose quindi dobbiamo conoscerlo non possiamo noi chiedere qualcosa ricevere qualcosa da Dio senza conoscere il nome di Gesù Cristo in maniera diciamo completa ecco sia averlo conosciuto personalmente perché avendoci salvato e purificato da ogni peccato ed egli alberga nei nostri cuori ma anche conoscerlo come carattere come vita come parole che ha detto tutto quello che c'è scritto nella parola noi di Gesù Cristo la dobbiamo conoscere e quindi qui ritorna importante gli avvertimenti sul fatto che bisogna studiare le sacre scritture in modo particolare quelle del Nuovo Testamento quindi non si può prescindere da conoscere dettagliatamente e specificatamente il Nuovo Testamento e soprattutto l'opera che Gesù Cristo ha compiuto un'altra guarigione sempre fatta nel nome di Gesù la andiamo a leggere più avanti nel capitolo sempre Pietro nel capitolo 9 di Atti degli Apostoli leggiamo dal versetto 32 quando qui Gesù scusate Pietro guarisce Enea e addirittura risuscita anche Tabita o Tabita se qualcuno preferisce chiamarla così questa sorella che era morta e che per la preghiera di Pietro è risuscitata ma anche quell'anziano un uomo di nome Enea è stato guarito sempre nel nome di Gesù Cristo leggiamo adesso dal versetto 32 or avvenne che Pietro andando qua e là da tutti venne anche ai santi che abitavano in Lidda e qui vi trovò un uomo chiamato Enea che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico e Pietro gli disse Enea Gesù Cristo ti sana levati e rifatti il letto ed egli subito si levò e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Sharon lo videro e si convertirono al Signore vedete qui per quanto riguarda Enea il segno e il prodigio compiuto da Pietro portò un beneficio a Enea che era paralitico e fu guarito fu fatto nel nome di Gesù perché c'è scritto Gesù Cristo ti sana non io Pietro ti sano capite è importante mettere il nome di Gesù chiarire bene per chi sta avvenendo questa guarigione Enea Gesù Cristo ti sana cioè non io che sono uomo carne e polvere ma è Gesù che ti sana Gesù quel Gesù di Nazare e cosa è successo è successo che per quell'opera che Gesù ha compiuto c'è scritto che quelli che lo videro si convertirono al Signore vedete quindi portò un grande beneficio portò un grande beneficio la guarigione fatta ad Enea perché oltre che averne ricevuto lui il beneficio ci furono molte conversioni quindi talvolta ci può essere un malato in mezzo alla Chiesa che Dio ha permesso che fosse malato affinché ne venisse una gloria al suo nome e anche perché magari vedendo che Dio aggiungeva la sua testimonianza allora le persone sono rese così più attente ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo e sono diciamo sospinte compunte a convertirsi con tutto il cuore al Signore perché non è possibile che sia una menzogna se Dio aggiunge la sua testimonianza non è possibile che colui che sta parlando ma vere testimonianze non false guarigioni o false opere potenti io parlo di quelle vere perché ce ne sono anche di quelle false ma quelle bisogna si riconoscono i vari imbrogli di allungamento del piede ci sono tanti imbrogli che ingannano solo i creduloni i creduloni credono certe cose false capite bisogna essere prudenti in ogni cosa non è che noi dobbiamo credere a tutto quello che si dice il credente è un credente in Dio nella sua parola non un credulone in tutte le cose che si dicono credenti non creduloni questo siamo noi noi credenti noi cristiani che abbiamo creduto in Gesù Cristo quindi lungi da noi l'essere creduloni perché credulone vuol dire che sei un po' scemo cioè tu credi a tutto quello che si dice non riesci a discernere quello che vedi e quello che senti e le cose non devono essere così tra i santi non devono essere così credente non vuol dire che sei credulone infatti nel proverbio è scritto che lo scemo crede ogni cosa no noi non siamo di quelli noi siamo credenti che crediamo a tutto quello che è che Dio opera crediamo a tutto quello che è scritto nella parola e stiamo attenti ed esaminiamo ogni cosa per vedere se le cose stanno così come facevano poi i bereani come facevano i bereani che esaminavano tutte le cose che venivano dette da Paolo per vedere se le cose stavano così secondo le scritture e sì quindi mettevano alla prova Paolo ma Paolo non si infastidiva se veniva messa alla prova dai santi attenzione non è che si infastidiva anzi provava piacere perché erano credenti che vegliavano erano svegli capite non addormentati non come le cinque vergini che si addormentano erano credenti svegli che badavano ad arrivare sino alla fine a non farsi ingannare per non farsi portare lontani dalla strada maestra quindi Gesù aveva compiuto quella guarigione di Enea e molti si convertirono grazie a quella guarigione quindi vedete se uno guarda solo la malattia dal punto di vista della sofferenza e della malattia nel momento in cui stai solo soffrendo tu non capisci tutto il piano di Dio capite ecco perché bisogna comunque guardare le sofferenze e anche le malattie quello che accade dobbiamo guardarlo comunque da un punto di vista da una prospettiva che è quella di Dio dal punto di vista di Dio dobbiamo vedere le cose dal senso di Dio delle cose di Dio quindi noi non sappiamo siccome la scrittura però c'ha maestra e ce lo dice noi non sappiamo per quale motivo certe malattie arrivano colpiscono mettono alla prova qualcuno noi dobbiamo pregare dobbiamo fare quello che la parola ci dice di fare sapendo che Dio ha un piano per ogni cosa capite e Dio poi trasforma il dolore in gioia tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio quindi anche le sofferenze anche le sofferenze anche le malattie tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio di conseguenza noi quando soffriamo non dobbiamo pensare solo all'aspetto negativo ma dobbiamo pensare cosa vuole insegnarci il Signore per quale motivo Dio sta permettendo una determinata cosa nella nostra vita e ci sta mettendo alla prova per vedere come reagiamo come ha fatto poi con Giobbe Giobbe è uno di quei libri che bisogna leggere attentamente perché comunque una sofferenza un dolore una malattia ci toccherà prima o poi tutti quindi bisogna sapere come reagire e capire come Dio opera e agisce per poter poi comprendere pienamente l'operato di Dio perché alcuni che predicano erroneamente che il credente non deve essere mai colpito da nessuna malattia quando poi vengono colpiti dalla malattia sono spiazzati perché hanno imparato tanti anni la stessa solfa malvagia e falsa poi vengono colpiti dalla malattia e si domandano ma perché è contrario Dio hai permesso questo perché l'hai permesso no perché poi non credo neanche che sia Dio magari che possa mandare le malattie perché Dio può mandare anche lui delle malattie o per punire o per manifestare la sua gloria o per altri motivi di cui uno l'abbiamo anche visto adesso in Enea quando Pietro ha pregato su di lui capite perché Dio fa quello che vuole fa quello che vuole per il motivo per cui lui vuole e per raggiungere un determinato risultato e quindi per ammaestrare anche il suo popolo e quindi dobbiamo sapere queste cose che sono scritte perché se tu non le sai non sai reagire nella maniera corretta quindi prima devi saperle queste cose quando poi ti troverai a praticarle a dover essere colpito sai come cosa andare a vedere leggere ricordare per poter reagire a queste prove che cadono purtroppo su di noi su tutti noi anche su di me il Signore ha messo alla prova duramente la mia fede nei primi anni della mia conversione io mi sono ammalato a morte e me ne stavo andando e vai dal dottore non vai dal dottore e tutte queste cose nella mente che si combattevano io mi sono inginocchiato ho pregato per tante tante ore tante ore dal pomeriggio subito dopo pranzo fino alla sera inginocchiato faccio a terra gridando a Dio con tutto il cuore e il Signore mi ha guarito mi ha liberato da quella malattia che mi stava portando alla morte una emorragia interna non avevo più forze non avevo il sangue mi stava andando via tutto non avevo più forze e io mi sono inginocchiato ho pregato il Signore e il Signore mi ha guarito questo è successo e questo devo raccontare così è avvenuto non che io abbia meritato niente non meritavo niente e non merito niente adesso il Dio per la sua misericordia la sua grazia ha operato in me in questa maniera non sentivo dolori quindi non era una sofferenza ero privo di forze completamente non riuscivo a sollevare una bottiglia per dire facevo una fatica enorme a mettermi l'acqua da una bottiglia giorni e giorni sono passati così fino a quando non ho pregato intensamente e il Signore nella sua misericordia ha deciso di guarirmi però altri problemi fisici non è che Dio mi ha guarito tutte le mie malattie mi ha guarito quella che mi stava portando via adesso ne ho altre a cominciare dall'abbassamento della vista e anche quella sto chiedendo guarigione non l'ho ricevuta quindi vedete Dio fa quello che vuole lui ma come ho accreduto credo come credevo forse di più anche credo adesso di quando sono stato guarito quindi non dipende dalla mia fede ma bensì dipende magari d'altro dipende magari dalla volontà di Dio e Dio ha questa volontà e questo ve lo dico affinché anche voi consideriate le cose che riguardano la vostra vita le esaminiate e possiate considerarle dal punto di vista corretto continuiamo a leggere il nostro testo di Atti 9 36 or in Iope vera una certa discepola chiamata Tabita il che interpretato vuol dire gazella Costei abbondava in buone opere e faceva molte elemosi e avvenne in quei giorni che la infermò e morì e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra e perché Lidda era vicina a Iope i discepoli udito che Pietro era là gli mandarono due uomini per pregarlo che senza induggio venisse fino a loro Pietro allora allevatosi se ne venne con loro e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro ma Pietro messi tutti fuori si pose in ginocchio e pregò e voltatosi verso il corpo disse Tabita levati ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere ed egli le die la mano e la sollevò e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita e ciò fu saputo per tutta Ioppe e molti credettero nel Signore e Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone Cogliaio vedete anche qui da notare qui da notare qui che la risurrezione di Tabita è avvenuta in modo particolare cioè non c'è stata una preghiera collettiva questo avvalora i doni spirituali che sono stati dati a Pietro o magari gli è stato dato proprio un comando magari Dio gli ha parlato gli ha detto si prega per lei e ritornerà in vita non sappiamo questo però il Dio scusate Pietro si sentì di pregare per quella donna e lo fece con piena fiducia mise tutti fuori pregò per quella donna ed essa risuscitò dai morti ma il Dio guarire per Dio per il Signore che ha fatto i cieli e la terra guarire da un raffreddore o risuscitare dai morti è la stessa cosa capite è la stessa cosa cioè il Dio non si stanca se ci guarisce da un raffreddore ma non si stanca neppure se dovesse risuscitare migliaia e migliaia di persone contemporaneamente non è che lui si stanca finisce le energie capite cioè questo è il nostro Dio stiamo parlando del nostro Dio egli opera con potenza e quello che lui fa non lo stanca per niente lui non si stanca né si affatica e questo è il nostro Dio e lui può compiere opere potenti può guarire come la suocera di Pietro aveva la febbre e fu guarita dalla febbre Tabita era morta e Dio la risuscitò dai morti non cambia nulla cioè non è che c'è uno sforzo superiore che lo priva di energia il Signore no non è una batteria il Dio è così potente che lui quello che fa non lo stanca capite non lo stanca e quindi questo è l'iddio nel quale noi crediamo questo è l'iddio che può compiere ogni cosa se non la fa vuol dire che ha il suo piano il suo disegno ora noi uomini siamo chiamati a fare le nostre opere quello che Dio ci ordina di fare di pregare per le guarigioni di fare tutte le altre cose in base ai doni e alla grazia che Dio ci ha dato e poi Dio compirà la sua opera che deve compiere quindi ognuno di noi deve tenersi la sua parte i suoi compiti deve sapere qual è il suo compito poi poi vediamo quello che il Signore opererà da parte sua ora volevo leggervi altri passaggi biblici adesso andiamo al Vangelo di Marco leggiamo tre guarigioni potenti gloriose di Dio e su ognuna volevo farvi una considerazione la guarigione di un lebroso Marco 1 40 questa guarigione perché avviene questa guarigione del lebroso e un lebroso venne a lui e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo se tu vuoi tu puoi mondarmi e Gesù mosso a pietà stese la mano lo toccò e gli disse lo voglio sii mondato e subito la lebra sparì da lui e fu mondato cosa vediamo qua vediamo quest'uomo sofferente che si butta in ginocchio e lo pregò e Gesù e Gesù che si mosse a pietà quindi è importante che le nostre suppliche come già ho detto anche prima la preghiera nell'efficacia della nostra preghiera dobbiamo riuscire a compungere il cuore del nostro Signore Gesù Cristo perché badate bene Gesù è morto ed è risuscitato il cuore pietoso ce l'ha ancora non è che il cuore pietoso non ce l'ha più cioè il Dio è misericordioso Gesù è misericordioso e noi quando preghiamo per ottenere qualcosa soprattutto per liberarci dalla sofferenza o dalla malattia noi preghiamo facendo appello alla misericordia di Dio alla pietà di Gesù Cristo è lì che dobbiamo agire e questo lebroso è lì che ha operato è riuscito a toccare il cuore di Gesù e a ottenere la guarigione ed ha parlato rettamente perché il lebroso cosa dice dice se tu vuoi puoi mondarmi ce n'è un altro che dice se tu ci puoi qualcosa e Gesù a quello lì lo ammonì tutto è possibile a chi crede e chi aveva sbagliato a parlare questo lebroso invece ha parlato rettamente ha parlato rettamente perché perché ha detto se tu vuoi come dire io so che tu lo puoi fare nulla ti è impossibile però io non so se tu lo vuoi oppure no perché dipende dalla tua volontà questo nell'insieme vuole dire questa parola ha rimesso tutte cioè io voglio essere guarito ma so che dipende da te dalla tua volontà quindi se tu vuoi mondami e Gesù mosso a pietà lo esaudì lo liberò dalla malattia vedete avete letto no? avete sentito se tu vuoi tu puoi mondarmi quindi tu vuoi se tu vuoi tu puoi il puoi era sicuro per questo lebroso quindi ha avuto fede in Gesù Cristo quello che lui non sapeva era la volontà di Gesù aveva capito e maturato anche questo che se era nella volontà di Gesù lo avrebbe guarito se no no è questa maturità questa conoscenza che dobbiamo avere anche noi anche conoscendo queste cose comunque quello che ha fatto il lebroso lo dobbiamo fare anche noi dobbiamo farlo eh con tutto il cuore perché anche a noi ci manca quella conoscenza se è nella volontà del Signore operare quella guarigione non sapendolo noi dobbiamo operare cercando di muovere Dio a misericordia muovere la sua pietà impietosirlo con le nostre preghiere con le nostre parole ed egli se nella sua volontà opererà queste sono le cose da sapere e da mettere in pratica poi un'altra guarigione anche questa importante per alcuni altri aspetti capitolo 2 di Marco sempre in Marco capitolo 2 dal versetto 1 c'era un paralitico che era portato da quattro persone che volevano tutti volevano che questo paralitico si presentasse davanti a Gesù affinché fosse guarito e leggiamo come avviene il tutto 2 1 di Marco e dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta la poteva contenere ed egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca scoprirono il tetto dalla parte dov'era Gesù e fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva e Gesù veduta la loro fede disse al paralitico figliolo i tuoi peccati ti sono rimessi ora alcuni degli scribi erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro perché parla a costui in questa maniera egli bestemmia chi può rimettere i peccati se non uno solo cioè Dio e Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé disse loro perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori che è più agevole dire al paralitico i tuoi peccati ti sono rimessi oppure dirgli levati togli il tuo lettuccio e cammina ora affinché sappiate che il figliol dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati io te lo dico disse al paralitico levati togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua e colui si alzò di subito preso il suo lettuccio se ne andò se ne andò via in presenza di tutti tal che tutti stupivano e glorificavano e Dio dicendo una così una cosa così non la vedemmo mai vedete avete sentito quello che accadde a questo paralitico quattro persone lo portavano Gesù stava parlando dentro quella casa stava parlando dentro quella casa c'era talmente tanta gente che non potevano arrivare davanti a Gesù per vie normali sicuramente erano tutte accalcate alle finestre era accalcata la porta non potevano passare ma questi quattro non si tirarono indietro avevano davanti a sé tanti ostacoli umani e non si fermarono salirono sul tetto l'ostacolo lì cambiò era di tipo fisico c'erano altri materiali che li dividevano dalla presenza di Gesù ma non si fermarono quei quattro paralitici scoperchiarono il tetto dovevano arrivare per forza di cose davanti a Gesù lo dovevano calare quel paralitico davanti a Gesù perché Gesù lo doveva guarire vedete quanto infatti cosa manifestò tutto questo Gesù cosa vide dal comportamento messo in atto da quei quattro che portavano il paralitico Gesù disse veduta la loro fede quindi il loro comportamento aveva mostrato a Gesù e a tutti gli altri uomini che c'erano lì aveva mostrato che questi avevano fiducia in Gesù Cristo che poteva guarire quell'uomo e infatti Gesù lo guarì qui la cosa importante da notare mentre prima ci siamo concentrati sul muovere la misericordia di Gesù era la misericordia di Gesù che con il lebroso il passo esaltava la misericordia di Gesù qui il passo a parte altri concetti sul perdonare i peccati che è un altro argomento ma noi ci fermiamo ci concentriamo solo sulla guarigione qui quello che si viene evidenziato maggiormente è il fatto che Gesù ha visto la loro fede quindi la fede quando uno ha fede il proprio comportamento lo dà a vedere in quel caso la fede di quei quattro ha dato a vedere a Gesù e a tutti gli uomini che avevano fede ed ha ottenuto ha ottenuto quello che loro desideravano per mezzo della loro fede capite veduta la loro fede poi fu guarito fu guarito il paralitico e quindi vedete com'è importante la fede è importante toccare la misericordia di Gesù Cristo muovere la misericordia di Dio ma è importante anche agire non fermarsi davanti a nessun ostacolo anche questo è importante e bisogna anche avere fede sino alla fine non fermarsi al primo problema dalla porta non riesco a entrare dalla finestra non riesco a entrare e io scoperco il tetto capite bisogna insistere davanti al Signore per portare il nostro problema davanti a Lui perché è Lui che risolve i nostri problemi non siamo noi che li risolviamo da soli tutti i nostri problemi in questo caso la guarigione va presentata davanti al Signore con insistenza senza fermarsi davanti a nessun ostacolo bisogna agire in questa maniera poi leggiamo un ultimo passaggio dove si pone in evidenza un'altra cosa vi metto in evidenza un'altra question un'altra cosa leggiamo Marco 7 24 la donna sirofenicia che aveva una figlia che era diciamo aveva uno spirito immondo quindi in quel caso era disturbata da uno spirito immondo quindi il malessere di quella bambina era dovuto a questo spirito maligno che la tormenta Marco descrive la situazione in questa maniera poi partitosi di là se ne andò verso i confini di tiro ed entrato in una casa non voleva che alcuno lo sapesse ma non potè restare nascosto che anzi subito una donna la cui figliolina aveva uno spirito immondo avendo udito parlare di lui venne e gli si gettò ai piedi quella donna era pagana di nazione sirofenicia e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliola ma Gesù le disse lascia che prima siano saziati i figlioli che non è bene prendere il pane dei figlioli per buttarlo ai cagnolini ma ella gli rispose dici bene signore e i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figlioli e Gesù le disse per cotesta parola va il demonio è uscito dalla tua figliola questo questo passaggio mi colpisce sempre in modo particolare prima di tutto perché Gesù sembra quasi mandare via quella donna che aveva bisogno no? ha cercato di mandarla via non è bene dare del pane dei figlioli cioè questo è il tempo dei figlioli non dei cani dei cagnolini impuri che erano i gentili che erano i pagani capite? Gesù in qualche maniera ha cercato di mandarla via poteva anche offendersi ma come mi chiama cagnolino ha dei riguardi personali disprezza noi che non siamo del popolo ebraico ha insistito si è fermata questa donna? si è fermata a sentire il no del Signore? no no ha continuato ha risposto correttamente infatti Gesù cosa dice? perché ha esaudito questa donna? Gesù dice per cotesta tua parola per cotesta parola va il demonio è uscito dalla tua figliola quindi cosa mi fa capire questo? questo mi fa capire che anche le parole che noi diciamo nelle nostre richieste a Dio a Gesù Cristo sono importanti quindi ce la dobbiamo mettere tutta non dire paroline così che diciamo sempre continuamente che magari non hanno non hanno senso non hanno il senso che devono avere dobbiamo usare parole giuste dobbiamo toccare convincere il Signore perché lui magari per un tempo ci sta dicendo no e noi con le parole lo dobbiamo convincere dobbiamo usare le parole giuste corrette perché dobbiamo sfondare quei muri quei muri di separazione quel muro che ci separa dal Signore anche usando avendo fede confidando nella misericordia di Dio ma anche utilizzando quelle parole giuste quindi nella preghiera efficace è importante metterci la fede confidare in Dio ma anche usare delle parole degne di di colui per il quale stiamo andando a invocare e a pregare e a chiedere qualcosa dobbiamo utilizzare anche delle parole convincenti capite cioè le parole che noi diciamo hanno la loro importanza mettiamola così e quindi dobbiamo curare anche le nostre parole non fare preghiere dette a memoria studiante a tavolino no perché quelle poi non provengono dal cuore ma usare parole che provengono dal cuore ma che siano convincenti capite e quindi anche la preghiera il tipo di parole la scelta delle parole utilizzate hanno la loro importanza e qui lo dimostra lo dimostra Gesù perché lo dimostra perché dice per questa parola che tu hai detto per queste parole che tu hai detto hai risposto rettamente e per queste parole che tu hai detto sarai esaudito è questo fratelli e sorelle volevo in questo modo esortarvi a pregare a pregare per ricevere i doni di guarigioni anche che il Signore li distribuisca la Chiesa a coloro che Lui vuole e quelli che hanno i doni di guarigioni studino tutti quei passaggi per poi metterli in pratica come scritto dando gloria a Dio nel nome di Gesù Cristo non nel proprio nome e poi per esortarvi a pregare con piena fiducia facendo una preghiera diciamo impegnativa perché di questo si parla non sbrigativa non superficiale ma una preghiera impegnativa per la guarigione per i fratelli che non stanno bene perché oggi tocca a loro domani saremo noi ad avere bisogno di preghiere quindi fratelli questo era il messaggio che questa sera volevo darvi mi sentivo in cuore di darvi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amore